Alleluia, Alleluia, Alleluia Tutto il resto è un po' una rielaborazione nostra e oggi noi attraverso il rito, attraverso la celebrazione del Natale, ridudiamo questi eventi. Abbiamo bisogno di riti per poter comprendere, per poter gustare queste cose, penso come siano presenti questi riti in tutti i campi, il rito per esempio della tavola del giorno di Natale che non può essere semplicemente il sedersi per nutrirsi, ha un significato particolare. Intanto le persone che si radunano, com'è preparata la tavola, i cibi particolari, ma penso anche ad altri campi come può essere il campo dello sport che apparentemente è un luogo dove la ritualità è così poco importante. Eppure, pensate alla differenza tra un bambino o un gruppo di bambini che giocano qui sulla piazza e invece una partita giocata a livello di campionario. C'è tutta una ritualità che permette di gustare fino in fondo. Ebbene, la celebrazione del Natale noi la viviamo attraverso dei riti, sono i riti che ci portano a radunarci in chiesa per esempio nel cuore della notte, la messa della notte. Perché farlo proprio a mezzanotte? Perché abbiamo bisogno di questi punti di riferimento per poter gustare certi eventi che non sono legati a quel momento, ma a quel momento ci richiama tutto un insieme di emozioni, di sensazioni, di ragionamenti. E' questo pensiero di Dio che ci ama, di un amore talmente grande per cui vale la pena di rimanere svegli nel cuore della notte sempre nuovi. Penso al Natale di quest'anno, che viene inserito in un contesto certamente diverso da quello di alcuni anni fa. Ma chi ha i capelli bianchi ripensa ai Natali della propria infanzia, quando magari un cesto di mandarini provato sopra l'albero di Natale e l'albero di Natale addobbato con aranci e mandarini era un momento di grande gioia. Oggi forse è diverso, perché viviamo in un contesto diverso. E il presempio preparato quest'anno ci ricorda proprio io come la presenza del Signore avviene nella concretezza della nostra vita. Infatti è ambientato in un luogo disastrato dalle alluvioni. Mi pare un angolo delle cinque terre, adesso non so quale di quelle cittadine affascinanti. Ed è vista proprio dal punto più affascinante, visto da parte del mare. Questo territorio disastrato anche per la causa del cuore. E voi vedrete da una parte tutti i vigneti, ma vedrete anche un angolo di una foresta dove gli alberi sono stati tagliati completamente. E vedrete tutto il disastro. Qualche'altro mi ha chiesto, ma c'è un ricontro nel presempio. Perché nel momento in cui l'alluvione ha tagliato tutte le possibilità di incontro, di andare incontrata a queste popolazioni, anche l'elicottero è stato utile. Certamente ai tempi di Gesù non c'era l'elicottero, ma non c'erano neanche le strade asfaltate, non c'erano neppure i vigili urbani con le loro macchine per fermare il traffico. Ma questo presempio indica colui che viene a salvarci. Davanti a questo male, una zattera, per indicare proprio la fragilità con cui Dio opera dentro di noi. La zattera è fragile, ma in certi momenti la zattera è la nostra salvezza. E su questa zattera, coloro che hanno preparato il presempio, hanno posto la figura di Maria Giuseppe il bambino e un'anfora d'acqua per portarla a queste popolazioni che dall'acqua avevano avuto la robina, ma non avevano l'acqua per potersi nutrire, per poter vivere. Il Natale oggi viene celebrato con lo stesso rito, ma in un contesto sociale, e in un contesto trattato, che ha incrociato nella nostra regione, un momento così difficile. Penso a quelle popolazioni come vivranno a questo Natale. Probabilmente non hanno bisogno di tante cose. Hanno riscoperto, dolorosamente, hanno riscoperto ciò che è essenziale, hanno lasciato perdere ciò che è marginale nella loro vita. Perché il Natale ci ricorda proprio l'essenzialità delle cose importanti. La nostra vita che diventa sempre più complessa, sempre più bisognosa, a volte apparentemente di tante cose inutili. Contemplando Gesù, nella torana, nella grotta, nella mangiatoia, ci accorgiamo come nella vita bisogna delle cose essenziali. Maria, Giuseppe, e nella nostra immaginazione l'asilo e il due che riscaldano il Signore. Il Natale riscoperta è la semplicità unità. E allora, Signore, aiutaci a riscoprire le cose semplici, ad affrontare questo momento che è un momento che richiede da tutti la rinuncia a qualche cosa di superfluo per diventare più capaci di essere solidari e fraterni con gli altri. In fondo, Gesù Cristo è venuto perché noi non guidessimo nell'individualismo e nell'egoismo, ma è venuto per fare di noi una sola famiglia. Gesù Cristo è venuto per fare di noi una sola famiglia. Gesù Cristo è venuto per fare di noi una sola famiglia.